...proprio in cui io me ne andrei, se fosse possibile, ma invece è il momento che sembra che tutti voi aspettiate, non si capisce come ogni settimana, è arrivato il momento in cui canterà... ...Gege! Anche questa settimana, Gege, un pezzo ricercato, una cosa, diciamo, tirata fuori dal meglio degli anni 60, anni 50, anni 50, il miracolo economico, il grande miracolo, anche se questo non è italiano, it's my party e è la festa di Gege! Yeah! Grazie! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 3, 4! 5, 4! 5, 4! 5, 5! 5, 5! 5, 6! 6, 7! 6, 7! 6, 8! 7! 8! 11! 11! 9! 9! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione